Ehi la ciurma, io sono Valcentenze e ben ritrovati in questo nuovo episodio 68esimo episodio di Expeditions Viking. Allora andiamo a vedere cosa c'è qua da... ok sangue... che c'è qua posso... posso aprire sta roba. Si entra, eh? Si! Voilà! Tutto a posto, tutto pulito. Questo è Theodore, per forza. Vai tu? Scusa il capo, raccogliamo prima. E' terrorizzato! Per favore, per favore, per favore! Sei Theodore? Si ferma di chiedere pietà e ti osserva. Annuisce silenziosamente. Lentamente. Tua sorella ci sta cercando. Aspetta fuori dalle mura. Pensi di riuscire a farcela? Annuisce ancora. Lo fai andare oltre a te e va a sudare le scarpe. non è vero? Ancora qua? Non è scappato così tanto forte eh? Eh, cos'è sta luce? Se ho guardato dall'altra parte sembrava sensato, ma visto di fronte... cioè era boh... sopra sta anche piovendo per quino che ci sia tutta sta luce infinita della vita eh? Episodio 68 siamo quindi? Che petta! Qua... ehm... ok, Theodore dovrebbe essere tranquillo. Severino è qua che le abbiamo detto che... le abbiamo detto che... le abbiamo detto un sacco di... cavolati. Ehm... Perchè adesso sto andando di qua? Non ha alcun senso che vado a dire. Mi sa che dobbiamo... scusa un attimo, intanto Nepia come sta? Ho perso di finezza. Vabbè, però potrebbe ancora... no. Il tipo di finezza è molto basso. Ehm... i tizi sono comunque sul piede di guerra. Ehm... Gaio e Elio ci serve. I rifugiati... ehm... no ok, andiamo a parlare con Theodore e Tizia fuori dalla... Dov'è che è il tizia? Non era da queste parti? Scappati fortissimo. Ehm... ah no, sono qua. Ok. Amber e Theodore. E' lì che scappate fortissimo adesso però eh, perchè... Ehm... Ciao Amber! Mio eroe! Ero felice di vederti ancora. Ehm... Sono stato tutto felice di aiutare. Questi sono gli ultimi... questi... averi di mio padre. Non si ti vuole. Ehm... Come riuscirei a farcela senza di questo? Abbiamo ancora... Dei maghettini. Non è una fortuna ma abbiamo abbastanza per vivere. Andremo giù a sud Mercia per cercare lavoro. Per favore prendilo. Non avremo problemi. Ok, altri tre questi... Ehm... altri tre punti per cui... Iniziamo ad averne un pochettino per poter... Ehm... Iniziare a pensare di... Tre di livello. Allora questa l'abbiamo finita. Ehm... Refugii... Debit collector. Allora cerchiamo di risolvere questa cosa qua. Prima di... Capire... Ehm... A questa l'abbiamo fallita perchè... A meno che non facciamo passare i rifugiati. Sì... Poi non ci fanno passare, vabbè? Per andare giù. E non ci fa passare, no? Ehm... Sono dei bambini però, io non voglio massacrare quei titti. Sì... Questi vogliono uccidere quelli, ma perchè? Proviamo a parlare di un'altra Neterfeld, ma... Sembra di un'altra Neterfeld... Ehm... ... ... ... ... ... ... ... ... Se ho uccido questo e ho uccido gli altri, se ho uccido quelli dentro moriranno anche questi qua fuori. E lo sconto per noi sarà più facile, però non avrei intenzione di uccidere questi bambini solo perché credono nei vecchi dèi. Assolutamente no. Mi sa che fallirò questa storia. Vogliamo anche picchiarli con il non-lethal? No, non voglio. Facciamo così, salviamo perché non so niente come se la calverà adesso che dobbiamo combattere con lei ferita. Dove sono i tessi che guardano la scala? Ciao Ignazio! Perchiamo guai, sì. Sono in sei però loro, eh? Noi siamo uno messo male. Allora. Vai così. Di da seccare subito l'arcella, se possibile. No! Come diavolo! Ho sprecato un'azione intera! Ho sprecato un'azione intera, porca di una miseria! facciamo così, lo inspiro di nuovo. Io non ho intenzione di lanciarmi così prepotentemente. Oh! Meglio, grazie! Neffia, spostati un attimo di lato così lo puoi andare dritto. Dritto per dritto. Un charge qua cosa li fa? Ah no, non lo secco mica per nulla. Non lo secco mica per nulla. Ah, quello li fa 116, 116. Ma mi sa che poi dopo non riusciamo a seguirlo con nessuno altro. Questo... scusami. Questo, fin dove arriva, non ci arriverà mai laggiù. E invece ci arriva la... sì. Facciamo così, allora. Facciamo un charge qua, sperando che non vada di blocco di scudo. E invece è andato tutto di blocco di scudo. Poi me la flancano tutta la vita. Porniamo qua. Raggiungo qua. Pizzicato, tu moviti qua. Rosqua... sei qua. Ah, lui ce la fa forse sul calo, speriamo. Un po'. Sì. Sì. Due in me non è niente male. Quindi niente. Rospa tu... no. Rospa Nefi avanza e anche... Io avanzo. Ketil, mettiti qua in modo da avere buona vista dopo. Loro avanzeranno dove sono spotted probabilmente. Ah, gli è scunnato. Ma mi ha fatto poco male, se no. Sì, ciao. Ok. Ti curo con Nefi adesso. Scusa. E chi ha messo peggio? Intanto... Com'è che fuori? Ah, perché ce n'è fi in mezzo? Facciamo così. Facciamo così. Ottimo. Un'epi andata per andata è andata, per cui forse è meglio curare Gunnar. Eh... Tiremo giù questo, però. Facciamo così Nefi allora. Qui Nefi e tira giù lui. Possibile. Così, allora mandiamo Slayfe addosso questo. Se lo sto... Ah, facciamo anche lanciargli una pietra che me non fa. Qui tentiamo lo stun. Ok. Così che Nefi possiamo metterla... Tape via, nell'elettrovie. E... Eh... Roskvack o Ragunnar. Rimane stunnato, però almeno... non dovrebbe rischiare di restarci. Ah, e di nuovo! Allora, questo non ha fatto niente. Andiamo con un attacco forte, no? Non vale la pena. Non vale la pena. Allora, tu col doppio come fai? eh, il 43 e poi gli avanza 61 per lui. Allora, facciamo che... Andare così? Ahia! Vabbè dai. non male e tu riusciresti a saccarlo per caso? probabilmente no, però proviamo e invece si il sacbonamento sarebbe stato sufficiente poi probabilmente ok si è incavata egregiamente ma deve andare giù sotto a parlare con il tipo dovrebbe fare un salvataggio automatico qua, mi auguro perché potremmo avere ancora grane dal fatto che ne fiaro non è messa bene però e ovviamente figurati se non c'è il pezzo delle fogne qua c'è un sacco di gente non sembra che ci sia della gente aggressiva io sono incuriosito da questa appare qua, probabilmente se lo apriamo questo è quello che hanno pagato i tizi loro forse per prendiamo tutto intanto questo è un sacco di questo è un sacco di I 10 ma non faranno mai male quanto dei lupi Yes, brava Nathia Facciamo un charge non Lathal su di lui? Vado Riativiamo Lathal? Allora lui non so se fosse una cosa... sa già o meno il... Credo che quelli armati fossero quelli più lontani Allora 73 se io gli faccio il quick ha un 31 e l'altro in cover E su quello ho un 19 quindi direi di no Direi che mi metto qua Potrei essere effettivamente un po' in mezzo ai piedi E... questo pura, l'altro lo sembra inutile, solo dei colpollino Ho fatto Gunnar qua in modo da... difendere un po' meglio Allora lui cosa può fare? Poco o nulla in questo momento Mettevolo qua E faccio un... Un sacco su di lui che male non fa Un sacco su di lui che male non fa Ehhh... Rosqua, cosa fa Rosqua? Vieni qua Rosqua che non so se mai Avrei dovuto aspettarmelo comunque che non sarebbero stati la a guardare Mentre io rubavo le loro provvise Questo è il mercante che non li ha pagati Quindi... Qui ora... Dunque Gunnar può sfruttare la sua carica Non si pensa nessuno in realtà a Gunnar con la sua carica Su questo comunque... E' un idio sotto... Non decisione non si sembrava Non posso dire est uzmaner .. Ma spenata che ho finito Fii anche non mesi è un po' sprecato pure me mettiamo di pressione se facessi un doppio ho un 55 no, di singolo avanti siamo qua Roskva è safe per ora mettiamo un Athea qua e Roskva non è qua non serve a molto pure un Roskva si è preso il tiro di opportunità l'ho anche stornato è andata dovremmo essere tranquilli allora vai e Gunnar dovrebbe ed è andata questo è andato che cazzo il ragdolo è sempre rotto va bene adesso dovremmo sbrigare sbrogliare un po' di cose direi che lo vedremo nel prossimo episodio però io vi invito come al solito a lasciare un mi piace un commento qua sotto iscriviti se per caso non l'essere già fatto ciao a tutti e buona giornata iscriviti al nostro canale